devo scegliere dei capi per fare il servizio fotografico dopo domani vogliono almeno tre capi, facciamo tre situazioni diverse pensavo, che vedete? questo per fare le foto in casa poi pensavo questo con la sua bella cintura in vita così per quando facciamo le foto in esterna e poi vogliono vedermi mentre dipingo pensavo che dite voi? a una staluppette con sotto magari una magliettina bianca e poi ovviamente vari scarpe con i tacchi e no che dite?